Le scuole di Caramanico e Castelvecchio-Subequo per ora sono salve. Dopo le proteste dei giorni scorsi è arrivata la deroga al temuto accorpamento delle due scuole dell'entroterra in assenza del numero minimo di studenti. Il salvataggio, non definitivo ma almeno temporaneo, è stato comunicato in mattinata dall'assessore regionale all'istruzione Roberto Sant'Angelo, con una deroga eccezionale derivante dalle politiche a tutela delle aree interne. Un sospiro di sollievo dunque per le due comunità, che però in questo caso non deroga al dibattito sui problemi vissuti in molte regioni italiane, dove l'assenza di scuole del e per il territorio rischia di aggravare ulteriormente lo spopolamento dei piccoli comuni e soprattutto dei paesi di montagna, con l'impressione che il diritto allo studio non sia uguale per tutti a tutte le altitudini e latitudini. Il tema, affrontato anche nel recente film del regista Riccardo Milani, che ha scelto proprio l'Abruzzo come set di un mondo a parte, è stato anche al centro del convegno dal titolo Benessere a scuola, organizzato dalla CISL Scuola Abruzzo e Molise nell'aula magna dell'Istituto Cerbo di Pescara. Per Roberto Calienno, segretario nazionale della CISL Scuola, la salute scolastica deve ripartire dalla lotta al precariato e dall'adeguamento della ritribuzione del personale docente, che attualmente è al di sotto della media europea. Dovremmo partire dai dati di una ricerca Eurodice. Secondo questa ricerca i docenti, il personale ATA, anche la dirigenza scolastica della scuola italiana, è caratterizzata da uno stress eccessivo, ma ancora di più le retribuzioni sono al di sotto della media europea e anche il ricorso al precariato è eccessivo. Quindi mancano delle forme concrete di turnover che anche attraverso il reclutamento potrebbero consentire questo. Noi vogliamo portare anche i valori della CISL all'interno del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l'organo collegiale più rappresentativo e abbiamo predisposto delle liste nazionali in grado di sostenere i processi di cambiamento e di riforma. Abbiamo in Abruzzo, in Molise, il nostro candidato Davide Desiati per le liste della scuola secondaria di secondo grado. Pluriclassi, precariato, decremento demografico e calo della popolazione scolastica, sono solo alcuni dei problemi con cui la scuola deve quotidianamente confrontarsi, come ribadisce Davide Desiati, segretario generale della CISL Scuola per Abruzzo e Molise. Il territorio abruzzese è fatto di grandi aree interne, piccoli centri. Qui sono necessarie delle deroghe nella costituzione delle classi e che quindi vanno costituite con numeri minimi, diciamo, lì dove è possibile conservando la presenza della scuola che chiaramente motiva anche le persone a rimanere sul territorio. Quindi bisogna garantire i pressi scolastici, le classi, il diritto all'istruzione lì dove la gente abita. Tra i relatori del convegno anche Laura Forcella della CISL Scuola Abruzzo e Molise. Gli interventi sono a livello dell'organizzazione, a livello dell'individuo e a livello sociale. Quindi su questi tre pilastri fondiamo tutti gli interventi che possono essere svolti.